Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org La guerra che il presidente russo Putin ha portato nel cuore dell'Europa si acuisce con il suo carico di dolore e di morte. Il Corriere della Sera del 10 marzo ha dedicato la sua prima pagina alla distruzione dell'ospedale di Mariupol, dove sono stati bombardati dai russi un reparto maternità e un reparto pediatico. Non è propaganda. Le immagini dell'effetto dei missili sono tragicamente eloquenti. I video sono rimbalzati tra i gruppi WhatsApp, Telegram e Viper. Lo spostamento d'aria provocato dai missili ha attraversato l'ospedale da parte a parte. I muri sono stati abbattuti, le stanze devastate, le culle e i letti lanciate dovunque. Non tutti i pazienti sono morti, ma si può immaginare che cosa significa sopravvivere in queste condizioni. Molte donne erano in ospedale per non rischiare di partorire in cantina senza un medico che le assistesse. Invece anche il reparto maternità è diventato bersaglio per un missile di precisione. Perché il mondo si commuove? Perché sono colpiti i civili che sono vittime innocenti della guerra e tra queste vittime le più deboli, le più innocenti sono i bambini. I bambini hanno nel loro sangue la memoria delle generazioni che li hanno preceduti e portano nei loro occhi la speranza di un futuro che non si riesce a intravedere. È giusto dunque che il mondo si commuova. Ma perché il mondo non si commuove di fronte ai milioni di bambini, milioni, non migliaia, che sono ogni anno vittime dell'aborto in tutto il mondo? Anche questi bambini sono vittime innocenti, ma né il Corriere della Sera né qualsiasi altro giornale dedica loro la prima pagina. Succede anzi che il 9 marzo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, chiede di rendere più facile l'accesso delle donne all'aborto e ai servizi di pianificazione familiare. Succede che il presidente francese Macron e l'Assemblea plenaria del Parlamento europeo il 18 febbraio scorso chiede di inserire l'aborto nel Trattato Costituzionale europeo. Succede che a Roma il sindaco Gualtieri ordini la rimozione dei manifesti dell'Associazione Provita semplicemente perché l'8 marzo ha promosso una campagna di affissioni con lo slogan Potere alle donne, fatele nascere. L'aborto è l'uccisione dell'essere umano innocente legalizzata dallo Stato. In Italia si calcola che dal 22 maggio 1978, giorno dell'approvazione della legge abortista ad oggi, il numero delle vittime abbia superato i 6 milioni, 6 milioni di piccoli esseri umani ai quali non è stato concesso di vedere la luce perché sono stati triturati o avvelenati nel grembo delle loro madri dalle loro madri stesse con l'autorizzazione e il sostegno dello Stato. A che titolo gli uomini politici, i giornali, gli intellettuali che sono favorevoli all'aborto protestano contro le atrocità contro i bambini commesse a Mario Pol. Questa incoerenza non giustifica né i bombardamenti contro i civili né l'invasione russa che è un atto di aggressione contro uno Stato sovrano ed è dunque una guerra ingiusta in tutte le sue espressioni. Va ricordato poi che la Russia è il primo paese al mondo ad avere completamente legalizzato l'aborto nel 1920 in seguito alla rivoluzione bolshevica ed è tuttora un paese che riconosce l'aborto come un diritto della donna. L'aborto è tuttora un flagello sociale in Russia anche se Putin ha cercato di frenarlo per aumentare l'incremento demografico. Stalin lo aveva fatto prima di lui nel 1936. Il presidente russo ha compreso come Stalin che l'aborto non è compatibile con una politica di espansione imperiale anche attraverso la guerra e Putin ha programmato un futuro di guerra per il suo paese e per l'Europa. Ma la guerra è il castigo dei popoli che scelgono di autodistruggersi violando la legge naturale. La strada che viene oggi percorsa sia dalla Russia che dall'Occidente conduce alla guerra, non alla pace perché nessuna vera pace può fondarsi senza il rispetto dell'ordine naturale. Quest'ordine voluto da Dio impone sempre e in ogni caso la protezione della vita umana innocente. Oggi c'è RadioRomaLibera.org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Grazie a tutti. Grazie a tutti